Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò dove trovare la runa in Pascoli di Zucca in Minecraft Dungeons. Allora, premetto come sempre che dovete finire il gioco almeno una volta, dopodiché questa runa è molto particolare. Perché io ho fatto questo livello diverse volte e non c'era mai la zona dove è nascosta la runa. Quindi se non la trovate ripetete la missione magari a difficoltà differenti fino a quando non la trovate. Ora, un consiglio che voglio darvi è quello di consultare la mappa e se in basso a sinistra ci sono segreti da trovare, allora la runa è presente nel livello. Io ho avuto modo di constatarlo e quindi diciamo è così. Dove si trova questa runa? Allora, come vi mostro dalla mappa, come potete vedere, quindi qui in questa posizione salvatevi questo punto della mappa, magari mettete in pausa. Se state giocando Pascoli di Zucca e non è presente questa zona, ripetete il dungeon, magari a difficoltà diversa fino a quando non compare. Ora qui, una volta che siete giunti qui in questa, tra virgolette, casa in fiamme, salite qui questa montagnetta e proseguite. Trovate tipo un'abitazione, eccola qua. Girateci attorno, ovviamente dovete finire il gioco, se non finite il gioco non trovate la runa. Proseguite qui e qui premete questo pulsante nascosto dietro alle casse, dopodiché entrate e come per magia avrete trovato la vostra quinta runa, se non vado errato. Qui, interagite qui, attendete come sempre e raccogliete la runa. Quindi, finite il gioco, mi raccomando, e avviate Pascoli di Zucca assicurandovi che vi siano dei segreti da trovare. Infatti adesso, come potete vedere, è uno di tre. Se vi sono tre segreti da trovare, allora siete nel posto giusto perché questa zona dove potete accedere alla runa è presente. Altrimenti rischiate che magari fate tutto il livello e questa zona non c'è. Quindi tenete bene a mente queste cose.